Moriranno più di 600.000 persone. La previsione drammatica è contenuta in un documento elaborato dalla Task Force del Ministero della Salute e secretato per non generare il panico, spiegano dal Di Castero. Un testo che, come rivela il Corriere della Sera, era pronto già il 12 febbraio nel quale, in base alla diffusione del contagio, venivano descritti tre diversi scenari. Il peggiore ipotizzava un indice di contagio superiore a 2, le terapie intensive insufficienti e una vera e propria ecatombe. Non si è realizzato, spiegano ora dal Ministero, perché il Governo, anche in base a quel documento, è intervenuto chiudendo gli italiani in casa e via via le attività. Ma è proprio sulla tempistica che in molti avanzano dubbi. Dalla prima stesura del rapporto alla chiusura dell'Italia, è passato quasi un mese, addirittura 38 giorni, dal decreto di emergenza nazionale. Con il senno di poi, sarebbe stato meglio il lockdown immediato, ha ammesso il Direttore Generale della Programmazione Sanitaria. Ma la scelta, invece, è stata quella di procedere per gradi, lentamente e spesso in ordine sparso. Quel rapporto segreto, aggiornato fino al 4 marzo, indica anche gli interventi da introdurre in base alla diffusione del contagio, ma non contiene indicazioni sulla fase 2. Sui possibili scenari a lungo termine, potrebbe fare chiarezza un sondaggio commissionato da Forza Italia a Tecne. C'è il rischio che ad inizio del prossimo anno, fa sapere Antonio Tajani, ci sia un'ondata di ritorno del coronavirus, proveniente dai paesi dell'Africa e dell'Asia. Sono necessari quindi maggiori controlli e che sindora si stipolino accordi con questi paesi per mettere in atto tutte le contromisure per evitare che ad essere colpito sia il mezzogiorno, che in questa fase ha avuto un numero di contagi contenuto.